Per più di un mese, dal 31 luglio fino al 5 settembre, non sarà possibile consumare pesce fresco nostrano visto il fermo alla pesca in alto adriatico. Il blocco è stato deciso al tavolo di consultazione nazionale della pesca e dell'acquacoltura, convocato dalla Direzione Generale della Pesca per le attività esercitate mediante l'utilizzo di reti a strascico, reti a divergenti e reti volanti per garantire la salvaguardia della fauna marina. Le giornate per pescare in mare sono scese a 140 giorni su 365. Le preoccupazioni per i pescatori non sono finite. Tende la comunità europea ad aggiungere ulteriori giorni di fermo pesca. Significa una cosa semplice che lo dicono i terrespettatori. Un'impresa sotto un tot di giorni all'anno chiude, semplicemente chiudere. Chiudere un'impresa vuol dire chiudere un apporto di lavoro con gli operai, chiudere l'indotto e togliere la possibilità di avere del prodotto ittico fresco sui nostri mercati. Il fermo cade quest'anno in un momento difficile. Tutto il settore ittico è in agitazione permanente e la manifestazione di Venezia del 12 giugno è stato solo uno dei primi tasselli di una serie di iniziative di sensibilizzazione e pressing istituzionale in visione degli stati generali della pesca per fine autunno a Chioccia. Se il nostro governo si metterà una mano sul cuore e non in punta di piedi col cappello in mano, ma con una ragionevole autorevolezza, andrà a Bruxelles a dire che in Italia esistono delle imprese che hanno affrontato il Covid, che hanno lavorato, che portano a casa reddito per le famiglie e anche attraverso l'indotto, che valorizzano il territorio portando del prodotto e valorizzando l'aspetto anche enogastronomico locale, producono ricchezza. Se questo non riescono a spiegarlo da Bruxelles, allora davvero è meglio che chiudiamo le imbarcazioni in porto, troviamo un'alternativa di lavoro e cercheremo poi di andare a mangiare il pesce importato dal Madagascar, dal Oceano Atlantico.